Allora, buonasera a tutti. Devo dire che è una giornata un po' particolare, anche una certa stanchezza addosso. Ho sentito diverse persone, ho analizzato con i coordinatori regionali quelle che sono le problematiche che arrivano dai territori. E siamo di fronte ad un cortocircuito incredibile, del quale un pochino avevamo anche già avvisato. Allora, domani entrerà in funzione la maledizione del Super Green Pass, dell'obbligo per i cinquantenni di vaccinarsi. Ed è incredibile come tutto questo si saldi con un'altra problematicità che non hanno saputo affrontare e quindi a maggior ragione risolvere. Perché? Perché c'è sempre un fanatismo di fondo. Allora, il discorso del caro energia per loro era non un problema, perché tanto arrivavano tanti soldi dall'Europa, perché per fortuna c'era il PNRR e quando non bastava il PNRR ci sarebbe stato il MES. E quindi loro pensavano che tutto questo avrebbe in qualche modo anestetizzato con la propaganda le problematiche reali. Così come dall'altra parte hanno detto, ma tanto c'è il vaccino, noi vi vacciniamo e quindi tutto tornerà come prima. Le balle sono sempre le stesse, sono pompate dalla retorica. Il vaccino come rimedio, e ti racconto la favoletta che il vaccino ti immunizza e ti fa tornare alla vita di prima, e poi comunque il vaccino si salda al Green Pass, che è un modo attraverso il quale noi affrontiamo l'emergenza sanitaria. E poi quando c'è la crisi, beh la crisi sarà superata grazie ai tanti soldi che arrivano dal PNRR, arrivano dall'Europa. Dopo un po' sei costretto però a fare i conti e ti accorgi che i conti non tornano, che i famosi soldi dall'Europa non arrivano e arrivano invece le bollette. Delle bollette che sono stratosferiche e ancora una volta le balle loro del sistema, la propaganda, si sgonfia, si affloscia. Perché? Perché la gente alla fine si parla e dice Scusa ma io con lo stesso consumo arrivo a pagare una bolletta che è quasi il triplo rispetto a prima. Com'è sto fatto? E quello dice Sì anche a me è la stessa cosa, con un consumo pressoché uguale io mi ritrovo con un costo della bolletta che è assurdo, ma non ci dovevano aiutare? Esattamente come dall'altra parte era Io mi sono vaccinata, mi avevano detto che non avrei preso il Covid e invece il Covid me lo sono preso lo stesso e dire che ho fatto la prima, la seconda, la terza. Ah però ti danno il Super Green Pass, ma chi se ne frega del Super Green Pass? Mi avevate detto che il vaccino in qualche modo mi avrebbe immunizzato. E allora tutte le balle dei più bravi si afflosciano, allora devi creare un nemico. Il nemico è il Novax, è colui che è il ristoratore che non vuole limitarsi a fare il controllore per conto terzi, quindi non controlla il Super Green Pass perché quel ristoratore deve fare cassa perché nessuno del governo si preoccupa del fatto che i ristoranti, i locali, gli esercizi commerciali devono pagare le bollette, devono stare dietro alle banche, devono stare dietro alle cartelle esattoriali, devono stare dietro alle tasse e quindi il ristoratore dice sapete che c'è? Mi avete rotto abbondantemente i coglioni, perché io devo fare cassa, perché tu Stato non viene a dirmi vabbè ti lascio stare perché in fin dei conti ti stiamo dando anche un po' meno di liquidità perché i clienti che non hanno il Super Green Pass non vengono a mangiare da te, no! Ti chiedono tutto e ti chiedono anche di fare il cerbero della situazione, il casellante, il controllore. Ecco perché tutto si sta complicando in una maniera incredibile, perché la propaganda del palazzo sta cadendo a terra. Allora abbiamo che le famiglie dei medici si stanno lamentando perché gli avevano raccontato la favola che loro erano gli eroi, che gli avrebbero dato dei soldi, che gli avrebbero dato delle indennità e invece la Commissione Bilancio e il Senato non trovano i soldi per dare un'indennità anche simbolica alle famiglie dei medici morti per il Covid. Questo è quello che arriva. Ah, e poi c'è quell'altra cosa, che siccome un pezzo di economia si stava sollevando con il super bonus e con la cessione multipla dei crediti, il governo che non ha soldi, perché ha furia di raccontare cazzate, perché i soldi li spendono per dare i soldi a Big Pharma, perché non ci sono i soldi per i parenti dei medici morti di Covid, ma ci sono sempre i soldi da dare a Big Pharma, ci sono sempre i soldi da dare al grande circo delle mascherine, dell'emergenza. Lì i soldi ci sono, non ci sono i soldi invece da dare ai parenti dei medici morti per Covid, eppure continuavano a dire, ah, ma gli eroi, sono i nostri eroi la propaganda. E le bollette, no, vi aiuteremo con le bollette, perché il PNRR ha anche i soldi della ecosostenibilità, del green, e quindi uno si aspettava che veramente tutto questo potesse avere una ricaduta per le famiglie, per la piccolissima impresa, per la piccola impresa, e invece no, no. E poi appunto c'è il super bonus che stava comunque performando, ma a un certo punto Draghi, che non sa più dove andare a prendere soldi, dice, no, il super bonus non va bene, perché ci sono i furbi. Allora, i furbi, siamo andati a vederlo, cioè non è che ci sia l'esploi dei furbi, bastava fare dei controlli, perché bastava fare dei controlli per fermare i furbi. Cioè non è che c'è un cantiere, vai a vedere un attimo il cantiere, se il cantiere, cioè quale sono le furbizze? Che hanno dato i soldi e non c'era il cantiere. Allora, cazzo, lo vedi, no, che tu hai dato dei soldi e non c'è un cantiere. Però il problema è che non hanno i controllori, perché i controllori li hanno tutti messi a fare i controlli dei super green pass, dei green pass, delle mascherine, degli obblighi. E adesso verranno a controllare se il cinquantenne si è vaccinato oppure no, e interviene l'agenzia delle entrate. L'agenzia delle entrate che non è riuscita invece a controllare e a tanare i furbetti del super bonus. Capite che stanno arrivando veramente ormai al crash totale. E non perché noi stiamo facendo chissà quale propaganda, ma perché le loro balle erano talmente grandi, erano talmente incredibili, che uno si ferma un attimo, si deve soltanto fermare un attimo e dire super bonus, ma perché io devo inceppare un sistema che sta performando? Semplice, perché non hanno i soldi. Non hanno i soldi perché ad un certo punto qualcuno deve coprire, cioè non è che la cessione multipla diventa una cessione sine die. A un certo punto qualcuno deve garantire tutto questo, però non accade. E allora che cosa si inventano? I furbetti. Ma cazzo, ma per andare a sanare i furbetti non è che ci voglia chissà che cosa. Prendi l'agenzia delle entrate, invece di prendere l'agenzia delle entrate e metterla a cercare gli over 50 che non si vaccinano e quindi verranno puniti dalle agenzie delle entrate. Che cazzo c'entra? Cosa c'entra l'agenzia delle entrate se io over 50 non mi vaccino? Cosa c'entra l'agenzia delle entrate? Cosa cazzo c'entra l'agenzia delle entrate? Niente. L'agenzia delle entrate invece potrebbe e dovrebbe andare a vedere i furbetti del super bonus, ma non hanno più il personale perché il personale lo hanno messo a fare i controlli degli aperitivi no green pass. questo è quello che accade nel paese. scontro sul green pass. Salvini tenta la spallata. Allora è talmente triste, Salvini è talmente triste che ha sguinzagliato un pezzo della sua bestia, quello che resta, per venire nelle nostre pagine a tentare di smorzare il culo che gli stiamo facendo. ora Matteo Salvini mi dispiace ma tu sei responsabile del super green pass e del green pass così come sei responsabile delle cazzate che dice il tuo ministro Giorgetti dopo sei costretto qualche ora dopo a dire no ma Giorgetti ha detto una cosa però non sono d'accordo io. oh mettetevi d'accordo cazzo ma mettetevi d'accordo fate una riunioncina vi mettete d'accordo uno dice una cosa ma non che i tuoi ministri votano il green pass e super green pass e l'obbligo vaccinale delle professioni e poi l'obbligo vaccinale per i cinquantenni. oh ma sono i tuoi ministri e un tuo ministro anche se è un tuo relativo ma è il ministro del governo che tu sostieni si chiama speranza ed è inutile che tu mandi i tuoi dentro le mie pagine a dire e tu che fai noi stiamo facendo tutto quello che tu non fai cioè noi stiamo facendo la mozione di sfiducia a speranza e perché tu non l'hai votata? noi stiamo facendo degli articoli degli emendamenti abrogativi della merda che fate voi voi traditori del voto popolare abbiamo compilato abbiamo presentato abbiamo posto al voto degli emendamenti abrogativi del super green pass del green pass degli obblighi vaccinali quindi sono i tuoi ministri è la tua maggioranza quindi aboliamolo a marzo ma dovete già abolire ma sbrigatevi basta fare questi annunci però il problema sai qual è Salvini? che il ministro speranza che tu hai salvato perché tu Salvini hai salvato Roberto Speranza da tre mozioni di sfiducia che abbiamo messo nero su su bianco e tu non hai avuto le palle di votare quindi se abbiamo speranza è colpa tua Salvini quando hai compilato un governo insieme a Draghi e non sei stato in grado di opporti a speranza e quando noi abbiamo presentato tre mozioni di sfiducia una di tale exit una di alternativa c'è e l'altra di fratelli d'italia tu non hai avuto le palle di far votare le emozioni di sfiducia quindi adesso cosa pensi di fare di venire nelle pagine mie a seminare Zizzania ma vada a fare in culo ma te lo dico così vai a fare in culo perché stai rovinando la gente con quei decreti che fai allora vediamo se hai le palle di dire lo aboliamo a marzo tu e quegli altri di Forza Italia senti parlare Brunetta ma non provi vergogna ma non provi un po' di vergogna a sentire Brunetta che è ancora uno con cui fate Brunetta e Forza Italia fate ancora gli accordi insieme Brunetta, la Ronzulli ma tu la senti la Ronzulli e Brunetta come parlano in televisione e comunque tu dici lo aboliamo a marzo Ricciardi che è il braccio destro il consulente del ministro della salute Speranza ha detto l'obbligo deve restare in vigore fino alla fine dell'anno oh ragazzi è così parlate nel governo è inutile che quindi tenti di fare un po' il furbetto perché non ti lasceremo ma proprio non ti molliamo su questa cosa perché non dovevi farla questa vigliaccata ma vado oltre vado oltre vedete quello che ha scritto traditi i sanitari morti di covid ha scritto anche Belpietro oggi e arriviamo alle bollette io 95 anni mangerò al buio e una bistecca me la sogno caro bollette le storie di chi non ce la fa ora l'ho presa persino da Repubblica quindi figuratevi di queste storie noi siamo pieni mi arrivano un sacco di letter di testimonianze così di gente di pensionati che non possono accedere alle poste piuttosto che non possono accedere in banca perché non hanno il green pass ma ti rendi conto ma vi rendete conto dove siamo andati a finire ora vagli a raccontare a queste persone di 90 anni vagli a raccontare che ci sono i soldi del PNR andategli a raccontare qualche favola voi dovete lavorare perché questo che oggi state in qualche modo apparecchiando perché è inevitabile un argile e il caro bollette deve diventare sistemico deve diventare sistemico perché e siamo ancora una volta al e voi che fate e tu che cosa fai il sottoscritto con Italexit aveva presentato all'inizio della legislatura dopo pochi mesi un progetto di legge simbolico importante dove chi consumava le famiglie le imprese che consumavano energia verde energia rinnovabile non avrebbe pagato gli oneri di sistema riguardanti gli incentivi alle rinnovabili perché se io consumo rinnovabile non vedo perché io in bolletta debba ritrovarmi con il pagamento degli incentivi alle rinnovabili le sto già consumando quindi mi devi premiare e mi levi tutte quelle cose mi levi tutta una serie di voci che in qualche modo venivano finanziate attraverso quegli incentivi che erano stati invece dati ai produttori di energia verde allora quel salvadanaio lo metti a disposizione di chi consuma energia verde in modo che la mia bolletta si abbassa in una maniera importante e agli imprenditori prendi acquirente unico gli dici caro acquirente unico fai un bel piano cinquantenale con i produttori di energie rinnovabili in modo che anche loro possono essere incentivati a produrre sempre più energia rinnovabile energia verde in modo tale che acquirente unico in una partita strategica diventa tra virgolette un buon monopolista e poi ancora se Eni e Enel fanno profitti incredibili in borsa fanno utili e sono partecipate dello Stato mi dispiace ma a questo giro gli utili non li fai perché tu appartieni allo Stato appartieni alla comunità e in questa fase gli utili di Enel non li distribuisce tra gli azionisti li distribuisce sulla cittadinanza e quindi mi togli le spese che riguardano l'IVA mi togli le spese che riguardano il trasporto insomma mi abbatti il costo della bolletta ma questo non deve essere a spot deve essere sistemico se no finisce come super bonus che ha furia di farlo sempre con roba diversa perché anche qui ogni volta si inventavano un pezzo nuovo del super bonus e poi c'era sempre la proroga la proroga era corretta e qui era la stessa cosa io non mi fido più degli interventi a spot devono essere degli interventi sistemici noi l'avevamo messo nero su bianco con un progetto di legge perché l'hanno bocciato perché perché tutte le volte che io ripropongo questo schema per via di emendamento viene bocciato chi è che vi fa paura vi fanno paura quelli dell'Enel quelle dell'Eni quelli dell'Enel chi vi fa paura chi noi ve l'abbiamo noi siamo propositivi noi abbiamo delle idee chiare in testa e vi dico un'altra cosa occhio perché tanto lo so già il film come va a finire tra un po' diranno grazie a noi il green passo super green passo non c'è più non è vero che non c'è più è un po' come se il semaforo a un certo punto diventa lampeggiante ma semaforo c'è ed è pronto ad essere riattivato quando gli serve allora io noi come talexit diciamo voi dovete togliere il semaforo cioè dovete togliere lo schema dell'identità digitale che ispira il green pass e lo si va a fare in Europa quindi non ci deve essere più il semaforo non che c'è ugualmente il semaforo che torna a lampeggiare arancio giallo per poi attivarsi nei suoi colori quando gli serve quindi come vedete noi stiamo facendo cose vere cose serie proposte serie questo stiamo facendo ok quindi io ragazzi vi saluto vi ringrazio ancora una volta perché siete stati in tanti a seguirmi e basta quindi seguite iscrivetevi a italexit basta andare sul portale sul sito italexit.it e partecipate con noi stiamo facendo veramente un qualcosa di importante di strutturato di nuovo lo faccio e lo facciamo insieme al vostro contributo ciao ragazzi grazie a tutti